Si rinnova a Montorio l'appuntamento con la nona edizione del grande torneo di Stu, promosso dall'Associazione Culturale Il Colle e Il Solleone, con il patrocinio del Comune di Montorio e del Consorzio BIM di Teramo. Una manifestazione che ha un importante valore di aggregazione e condivisione sociale per tutta la comunità montoriese e per favorire la partecipazione dei numerosi nuclei familiari evacuati dal centro storico di Montorio e alloggiati presso le strutture alberghiere della costa, in particolare a Roseto e al Badriatica, quest'anno si è deciso di trasferire i tavoli dello Stu anche in queste località. Ma che cos'è e in che cosa consiste questo mitico gioco dello Stu? Allora, lo Stu innanzitutto è un gioco molto antico, addirittura troviamo tracce nel 1200-1300, poi si è vero voluto negli anni, ed è essenzialmente un gioco di società, ma la bellezza del gioco sta nel fatto che si sta veramente tutti insieme e con ilarità, ci si diverte molto perché ci sono tanti sfutto, si riesce a passare una bella serata. Voi addirittura adesso ne fate un torneo, anzi questa è la nona edizione. Sì, noi abbiamo iniziato nel 2008 a fare questa cosa, iniziamo in piazza addirittura con carte figurate, poi nel tempo, siccome di questo periodo normalmente fa freddo, abbiamo deciso di spostarci dentro i locali. Giocare a Stu per divertirsi, ma anche per raccogliere fondi a favore dei più deboli. Grazie ai proventi realizzati dal torneo dello scorso anno, l'associazione ha consegnato tre defibrillatori alla Croce Bianca Onlus di Montorio, posizionati in altrettanti punti strategici del territorio comunale. Quest'anno partecipiamo a un progetto europeo, Nati per Leggere, che è come finalità la divulgazione della lettura nei ragazzi dell'età prescolare. Infine si dice che le carte dello Stu indichino il destino di una persona che può tenerle o cambiarle. Cosa ho preso? Questo è il leone, che da noi chiamiamo l'UFU, è la carta peggiore del gioco, è una carta che quando viene presa ovviamente tutti cercano di liberarsene.